Musica Oggi è la festa di Sintino e siamo qui col priore Gavino Assaretti. Buongiorno Gavino. Senta un attimo, ma io ho sentito che il priore ha un ruolo importante proprio nell'organizzazione. Ci spieghi un pochettino? Ritorniamo alla festa di oggi. Due accenni, come si snoda un po' tutto? Adesso la prima cosa, l'amministrazione civica passa davanti alla casa della confraternita e raccoglie e va a prendere le bandiere, il simbolo della festa. Musica Dal punto di vista culturale, che cosa ci puoi raccontare, Francesca? Beh, la festa delle Marie è un appuntamento fondamentale della tradizione di Sintino. Musica Adesso dopo che arriviamo in porto, che cosa ci attende? Adesso sbarchiamo, sbarchiamo e poi si continua la processione per le vie del paese. Musica 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 Musica